Il Comune di Milano sta lavorando ad un piano aria e clima che sarà presentato tra qualche settimana. Lo ha annunciato il Sindaco Giuseppe Sala, a margine di un flash mob di negambiente in Piazza Duomo promosso in occasione della Settimana Mondiale di Immobilitazione per il Clima. Nel piano il Comune inserirà non solo obiettivi al 2050 e al 2030, ma anche quello che sarà possibile mettere in atto entro la fine del mandato, nel 2021. Il piano, che è un obbligo di legge dal momento che l'Italia si trova in infrazione europea, passerà per le commissioni e poi per il Consiglio Comunale e tratterà i temi della mobilità, dell'efficientamento dei sistemi energetici e degli edifici. Il Comune di Milano potrà dare il proprio esempio a partire dal patrimonio di edilizia residenziale e scolastica. Accanto a questo, sul fronte del clima vuole muoversi la Caritas Ambrosiana, con il progetto di poter contare oltre 60 milioni di alberi nelle aree urbane italiane entro il 2020. Si tratta della risposta milanese all'appello di riforestazione lanciato dalle comunità Laudato Sidirieti, che ha l'obiettivo di piantumare un albero per ogni abitante. Il progetto, all'ombra del campanile, questo il nome dell'iniziativa, prevede l'individuazione di spazi parrocchiali della diocesi, oratori, scuole e aree vicino alle chiese, in cui sarà piantato nuovo verde. L'iniziativa è stata presentata questa mattina al Refettorio Ambrosiano di Milano dal direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti, dal Vescovo di Rieti, Monsignor Domenico Pompili e da Carlo Petrini di Slow Food, che insieme hanno dato vita alle prime comunità Laudato Si, poco dopo il terremoto che colpì la zona nel 2016, ispirandosi all'enciclica di Papa Francesco. Un'iniziativa per riflettere sui temi dell'enciclica. Piantare un albero in parrocchia e prendersene cura può essere un gesto concreto per contribuire in maniera diretta alla tutela del creato ed è anche un gesto simbolico per far maturare nelle comunità una coscienza ecologica, ha detto Gualzetti. Per Petrini questa iniziativa è un'azione concreta per abbassare i livelli di CO2, ma serve anche un cambio di paradigma, un cambiamento culturale profondo. Al Refettorio Ambrosiano è stato anche presentato il Roadshow della comunità Laudato Si, che dopo Milano toccherà anche Brescia e Bergamo con eventi dedicati anche all'ambiente e con lo scopo di promuovere la nascita di nuove comunità.